grazie 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 ma come fa essere uno? dai Vittor forte Giorgio forte Giorgio stop 5-2 5-2 5-2 stop trova guarda dietro almeno vai dai vai quante botte? tre palle in soldo vieni Tommy vai Giorgio vai l'interno l'interno avvicino va bene ecco esatto insieme mi fa Sì, ma non so, non so... Sì, ma non so... Sì, ma non so... Eh, perché sei più sicuro. Vai, domi! No, davanti... Sì, no! Corriamo! Corriamo! Fenomeno! Corriamo!